Siamo con Andrea Armagni, project manager degli eroni rugby. Andrea, oggi vediamo che gli eroni scendono in campo durante il riscaldamento con una maglia gialla, con una scritta particolare sul petto. Farmatoday.it porta bene. Sappiamo che questa cosa è nata da una scommessa. Ci vuoi raccontare come è successo? È nato un po' così, per gioco, per scherzo. Guardavamo la partita dallo skybox qua in alto con Michele Solari e con Simone Baldini e così Michele ha lanciato questa sfida e ha detto vuoi vedere che oggi contro i vice campioni d'Europa noi riusciamo a vincere? Noi di Farmatoday li portiamo alla vittoria. E io così pensandoci ho detto la nostra squadra sta crescendo, stiamo giocando sempre meglio, però questi sono i vice campioni d'Europa. Mi sono sentito di lanciarmi e ho detto dai va bene, se vinciamo vi diamo lo spazio sulla maglia del riscaldamento. E così è stata. Abbiamo sofferto insieme questi 80 minuti, siamo riusciti a vincere e Michele ha portato a casa lo spazio sulla maglia del riscaldamento e oggi potrete vedere sulla maglia gialla appunto il vostro marchio e speriamo che continui a portarci fortuna.